Fino a ieri lo hanno regato, il baratto politico si è realizzato, i 5 Stelle hanno salvato Salvini e contemporaneamente Salvini concede il no alla TAV. Si è improvvisamente trovato l'accordo. In un'altra epoca si sarebbe detto che a pensare male si fa peccato, ma spesso ci si azzecca. È davvero casuale che queste nuove convergenze tra i firmatari del contratto siano intervenute dopo il voto della Giunta, favorevole all'idea della Lega. Quel voto che ha tanto profondamente lacerato il movimento. Io Piemonte lo conosco bene, ci ho lavorato a Torino. Io so che lì c'è bisogno di una metro 2, di una metropolitana linea 2. Da progetti preliminari si parla di 2,5-3 miliardi circa. E sono convinto che gli imprenditori torinesi e piemontesi quella la vedono come una vera TAV, una super TAV, non un buco della montagna che nasce per trasportare persone e diventa trasporto merci perché hanno visto che nelle persone e nelle merci si passeranno mai da lì perché a chi se ne frega di andare a Lione. Lasciate me lo dire. Ma position è molto chiara e io l'ai detto al Parlamento. Io penso che tutti gli imprenditori pubblici che già lanciano, ci che hanno già fatto l'obiettino di contratti, di tratti, di accordi interni, dobbiamo se realizzare. Perché noi non solo dobbiamo lanciare le investimento pubblico, ma dobbiamo envoyare un messaggio di serenità a tutti gli investitori in Italia. Un messaggio di serenità a chi vuole investire in Italia, così dice il ministro Giovanni Tria. Buongiorno, benvenuti ad Omnibus, sono le 8.06, buon sabato mattina. Come avrete capito questa mattina parliamo della TAV, la linea ad alta velocità, sulla quale tanto per usare un eufemismo c'è parecchia confusione, perché ricordiamo giovedì è passata una mozione, Lega 5 Stelle alla Camera, che impegna il governo a ridiscutere integramente il progetto nell'applicazione del trattato tra Italia e Francia. Cercheremo di capire che cosa significa questa frase. Al tempo stesso l'Unione Europea ha dato un ultimatum all'Italia. Decidete e procedete con ulteriori gare di lavori entro fine marzo oppure perderete 300 milioni di fondi europei. e quindi quali aziende potranno accettare bandi di gara con questa spada di Damocle lo vedremo. Passo subito a presentarvi i nostri ospiti. Alla mia destra c'è Roberto Gualtieri, europarlamentare del Partito Democratico, presidente della Commissione Affari Economici e Monetari. Buongiorno. Buongiorno. Nonché negoziatore della Brexit, ne parleremo più tardi. Accanto a me c'è Enrico Singer, direttore dell'Agenzia di Stampa Nova. Buongiorno Enrico, benvenuto. Abbiamo Tiziana Beghini, europarlamentare del Movimento 5 Stelle. Buongiorno anche a lei, onorevole. Buongiorno. Collegato da Milano abbiamo il professor Roberto Zucchetti, economista dei trasporti dell'Università Bocconi. Si occupa proprio di valutare l'impatto economico delle opere pubbliche ed è stato, ricordiamo, esperto incaricato dalla Presidenza del Consiglio a supporto della struttura del commissario straordinario della TAV dal 2015 al 2018. Quindi è persona che ci capisce. Allora, onorevole Beghini, io vorrei partire subito da lei. Vede questa scrittina che abbiamo alla fine della TAV. Si farà sì o no? A lei la risposta. Io mi auguro di no, però è evidente che l'analisi costi-benefici ci ha dato un'indicazione molto chiara. Le due forze di governo anche, e quindi l'opera verrà ridiscussa integralmente perché i presupposti per la realizzazione, e vorrei essere chiara a dire la realizzazione dell'opera, non il completamento, perché che se ne dica la narrativa è abbastanza generalista, l'opera non è veramente iniziata. Quello che va avanti da anni è un cantiere che ha finalità per il momento esclusivamente esplorative, cioè i buchi che sono stati fatti, i tunnel di cui oggi si parla, sono tunnel geognostici, cioè tunnel esplorativi. Il tunnel di base non è stato iniziato. Quindi non si parla in questo caso di completamento dell'opera, ma di inizio di un'opera, nonostante appunto i decenni, e questo ahimè la dice lunga su quello che è stato la genesi di quest'opera contestata dal suo inizio, ma che appunto ha dimostrato tutte le debolezze già in passato. Oggi, sulla base di quelle che sono le stime, dimostra di essere assolutamente uno spreco di denaro pubblico, laddove noi abbiamo invece una grande necessità di investimenti e di infrastrutture in un'Italia dove esistono dei paradossi come percorrere pochi chilometri in Sicilia in undici ore e tre cambi. Ecco, queste sono le vere opere di cui abbiamo bisogno, ma nello stesso Piemonte abbiamo grandissime difficoltà logistiche, treni regionali che non rispettano orari, difficoltà enormi per i cittadini per arrivare al lavoro. E questo sì che comporta anche dei disagi per le imprese e per gli imprenditori, non semplicemente risparmiare 20 minuti per trasportare merci da Torino a Lione. Professor Zucchetti, lei condivide le considerazioni dell'onorevole Begin? No, non le condivido. Questa è un'opera utile. È un'opera utile perché noi con l'altra parte delle Alpi, Francia, Spagna, Portogallo e Inghilterra, perché si va da quella parte lì, abbiamo un trasferimento di 44 milioni di tonnellate di merci tutti gli anni. Quindi un sistema di trasporto più efficiente serve moltissimo. Inoltre di là abbiamo città importanti come Parigi, come Lione, come Barcellona e un sistema di trasporto ferroviario moderno come quello che abbiamo ormai in Italia tra Milano, Torino, Napoli e Roma. Favorisce lo sviluppo, favorisce i commerci, favorisce gli incontri. Quello di cui stiamo parlando poi è un tassello, molto bella la slide che si vede, di una lunga corridoio. Se noi facciamo venire meno questo tassello tutto l'incorridoio ne risente. Chi da Ljubljana deve portare merce a Barcellona se c'è questo tassello lo potrà fare col treno, altrimenti dovrà mettere tutto su camion. Quello che non si riesce a far capire è che questa cosa serve dentro un'ottica europea e la nostra economia è un'economia di trasformazione. Noi commerciamo con l'Europa per dire la Francia ci ha comprato 52 miliardi di dollari di beni nel 2017. È il nostro secondo cliente, diciamo così, a livello mondiale, dopo la Germania. Allora, una infrastruttura che ci collega col secondo cliente e non litigare col secondo cliente mi sembrano due cose essenziali. Gualteri. Io sono d'accordo e sono abbastanza sconcertato dalle cose che ascolto dire da Toninelli, ora dalla collega Begin. Qua si parla di questi 20 minuti, ma cosa importa? Premesso che riuscire a collegare, per esempio, Milano a Parigi in meno di quattro ore e mezza non mi sembra una cosa trascurabile, ma il punto non è solo quello del tempo. La TAV consente di avere convogli più lunghi, che nella tratta originaria non possono passare, quindi di evitare di moltiplicarli, di non avere le pendenze, di poter avere carichi maggiori e quindi di risparmiare notevolmente, anche in termini di capacità, di collegare i vari punti di questa, che è una grande metropolitana europea. L'analisi costi-benefici che è stata commissionata al consigliere di Toninelli, noto per aver scritto un libro che dice che il futuro dei trasporti è quello su gomma e non quello su ferro, quindi una persona con un'idea, in sostanza, diciamo, eccentrica rispetto alle visioni mondiali su dove va il trasporto, e si è stato scelto di dire a uno che pensa che il futuro è il petrolio del trasporto su gomma, si è scelto di dare a lui e i suoi collaboratori che lavorano in una società di decidere i costi-benefici, ha fatto un'analisi surreale, perché ha considerato, diciamo, i benefici solamente come se fosse una tratta interna nazionale, non come se fosse uno snodo di una grande metropolitana europea. Lui ha fatto una valutazione proprio angusta, sia sul piano spaziale, solamente da Genova a Venezia, come se non ci fosse appunto l'intreccio sia tra quella linea rossa che avete visto orizzontale, ma anche quella verticale che ti porta da Glasgow a Londra, a Parigi, fino a Palermo, quindi è una grande metropolitana europea. Se tu gli stacchi un pezzo in mezzo, la distruggi, e quindi non è stata contata questa esternalità positiva potenziale di uno sviluppo del grande mercato europeo. E poi è stata un'analisi assolutamente angusta sul piano temporale. Ha detto, ah, ma si sono valutati i benefici solo per un certo numero di anni, ma si sa che queste grandi infrastrutture, la metropolitana di Londra, di New York, sono state fatte molto tempo fa, ma rendono quei posti, quelle città, molto più avanzate di Roma, per esempio, perché non è stato pensato come Toninelli, ah, ma a me che mi importa, perché tra dieci anni non c'è un beneficio. Se con questo criterio noi non avremmo avuto la metropolitana di Londra, la metropolitana di New York, ora si vuole impedire di avere la grande metropolitana europea per una visione proprio del tutto miope, surreale, peraltro mettendo in contrapposizione investimenti che non si possono mettere in contrapposizione perché questo governo li sta bloccando tutti. Quindi non dire, no, io non sto facendo questa, però sto facendo invece quest'altro e quest'altro. Le siete bloccati tutti. E qui il tema, e tra l'altro questo è un investimento cofinanziato al 40% e ora addirittura al 50% dall'Unione Europea, che è iniziato tra l'altro, non è vero che non è iniziato, perché quei tunnel sono parte integrante dell'opera e tra l'altro se si smette bisogna rimetterli a posto. Cioè le stime sono di 250 milioni solo per smontare, poi ci sono le imprese, bisogna risarcire, cioè i soldi che si perdono se non si fa perché è iniziata sono tantissimi. Quindi rinunciare a uno snodo di una grande metropolitana europea che riduce il traffico su gomma, che riduce l'inquinamento, ah poi scusate, dimenticavo la perla dell'analisi costi-benefici, il costo sarebbe che c'è meno inquinamento, quindi ci sono meno accise sulla benzina e ci sono meno pedaggi autostradali. Questo è un costo? Questo è un beneficio? Certo, poi chi dice ci sono, no, se ci sono chiaramente per le lobby del trasporto su gomma, questo è un costo, per i cittadini e per il nostro futuro è un beneficio. Enrico Singer, direttore dell'Agenzia Nova, so che lei voleva fare, Cioè tu volevi fare una... Sì, sì, volevo aggiungere due considerazioni che sono però poi due domande ai nostri ospiti. Una è quella, diciamo, dell'ultimatum dell'Unione Europea che tu stesso ricordavi, che non è soltanto un problema ridateci indietro i soldi, è che quei soldi, eventualmente stanziati adesso da 40 portati al 50, andranno ad altri progetti, perché guardate che c'è un progetto che la Spagna e la Francia sponsorizzano molto che dovrebbe unire Gibilterra al nord Europa. Cioè praticamente sia in Spagna che in Francia delle linee ad alta velocità e ad alta capacità, perché questa tra l'altro è una linea ad alta capacità, quella della TAV Torino-Lione, e ci sono già, però si tratta di potenziarle in Spagna e in Francia. Quindi i soldi che l'Italia rischia di perdere possono andare ad altri, che evidentemente avranno fatto altri calcoli di costi-benefici. Quindi volevo avere un'opinione su questo, come mai... E poi la domanda principale è quella che oggettivamente nel Governo, io da osservatore non voglio parteggiare per nessuno, ma da osservatore devo dire che ha due posizioni assolutamente diverse, perché come l'onorevole Beghina ha confermato, il Movimento 5 Stelle spera appunto di non fare la TAV in modo espresso, e ieri mattina Salvini ha detto che non c'è alcun blocco della TAV, questa è una citazione, c'è solo una revisione del progetto con l'obiettivo di portare a termine il progetto. Quindi credo che si dovrebbero... Questo è per l'onorevole Beghina. Eh sì, questo è per l'onorevole Beghina, e poi per il nostro esperto di trasporti, com'è queste linee, perché questi corridoi europei, tra l'onorevole passare il 5 e l'1, si possono spostare, si possono muovere, come appunto in una rete della metropolitana. Onorevole Beghina, allora... Intanto io vorrei chiedere se quella linea rossa che è stata mostrata è tutta completata, perché dalla narrativa che sembra, sembra che ci sia una mancanza soltanto in quell'ultimo tratto, e non mi sembra che sia esattamente così. È evidente che sono importanti i trasporti, è però altrettanto evidente che indipendentemente dal fatto che esista o meno questa linea, oggi i commerci esistono, ci sono e seguono delle direttrici. Peraltro io vorrei ricordare... I tir, i tir. Noi stiamo facendo delle valutazioni politiche, peraltro contestando il lavoro di tecnici che hanno eseguito dei calcoli numerici su basi, con dei criteri scientifici. Poi si può discutere su tutto. È evidente che noi rimaniamo su un ambito di opinioni, però non possiamo contraddire con delle opinioni dei tecnici. Ma ammesso che giustamente lo vogliamo fare in questo esercizio speculativo. Però la domanda sorge spontanea. Quest'opera è stata dichiarata non soltanto inutile, ma anche fondamentalmente inadeguata rispetto allo sviluppo che si prevede. Perché anche quando si fanno delle comparazioni con metropolitana, con autostrade, secondo me è molto improprio. Nella misura in cui si iniziavano delle infrastrutture parallelamente ad uno sviluppo che queste infrastrutture andavano ad accompagnare. Noi invece oggi stiamo impegnando lo Stato italiano con grandi difficoltà di tipo di liquidità monetaria in un'opera che è stata progettata sulla base di esigenze vecchie di 30 anni che sarà pronta fra altri 15 o 20 nella migliore delle ipotesi con un costo tre volte superiore a quello degli altri paesi e questo lo dice la stessa Unione Europea in un rapporto e peraltro senza tenere in conto quello che invece è lo sviluppo oggi del trasporto. Perché quando si dice che in realtà il futuro è su gomma non è un futuro su gomma per la lobby del petrolio o per mantenere quello che è uno status quo ma perché si monitorizza quella che è l'evoluzione tecnologica che ci dice che fra 15 o 20 anni effettivamente ci saranno degli altri delle altre modalità di trasporto delle altre modalità di commercio delle altre modalità distributive. Questo è quello che viene tenuto in considerazione quando si fanno certi tipi di proiezioni. Poi se invece noi vogliamo progettare un'opera sulla base di presupposti di 30 anni fa sulla base di uno sviluppo che sarà completamente diverso da quello che era 30 anni fa allora possiamo continuare su questa strada e fare la narrativa che più ci conviene. Ma le cose non stanno esattamente in questo modo. Nel 2019 uscirà il primo tire elettrico di Tesla così tanto per dare una piccola informazione. Allora, professor Zucchetti l'obiezione dell'onorevole Beghina è questa l'opera è già vecchia i benefici si vedranno tra 15 anni tra 15 anni avremo i tiri elettrici. No, è tutto diverso. Gli svizzeri hanno costruito delle gallerie esattamente così e l'hanno fatto dopo aver fatto serie analisi. Lo stanno facendo gli austriaci lo sta facendo tutto il mondo. La Cina sta investendo enormemente nei treni allora non diciamo cose non precise un treno moderno non ad alta velocità ma un treno moderno sostituisce 60 tire sulle lunghe distanze trasportare col treno costa di meno inquina di meno consuma di meno nessuno vuole cancellare i tire e mettere i treni ma si vuole portare tutte le merci nel modo più efficiente possibile. Non è vero che gli studi sono antichi sono vecchi sono stati rifatti la convenienza a maggior ragione oggi è dimostrata dal fatto che la linea storica sta morendo. Nessuno più trasporta merci in ferrovia con una linea che sale di 800 metri con pendenze del 32 per 1000 per cui si possono fare treni che trasportano poca roba e che quindi non sono convenienti. Quindi prima cosa la ferrovia ha un futuro l'Europa scommette sulla ferrovia che oltretutto è una tecnologia nostra europea noi riusciamo a vendere in giro per il mondo tecnologia ferroviaria e investire in questo senso a ricadute importanti sul nostro impianto produttivo mentre la tecnologia elettrica è tutta roba ormai cinese. Teniamo conto anche di queste cose perché quando noi ci innamoriamo di alcune idee basta il diesel e le auto elettriche dovremmo capirne le conseguenze. Tra parentesi le auto elettriche non pagano le accise e allora come la mettiamo? Avete fatto la costi benefici delle auto elettriche del bonus auto elettriche quindi serve serve per motivi di trasporto per efficienza di trasporto. L'analisi costi benefici fatta su incarico del Ministro è sbagliata nei numeri e nelle metodologie. Segue una sua metodologia rispettabilissima ma non segue la metodologia che il Ministero chiede perché un'opera possa essere finanziata. E quindi diciamo così è come andare all'Inps con un calcolo dell'Isee dove è messo dentro anche non so il canarino ti dicono guarda se vuoi essere messo nella lista delle case popolari l'Isee lo calcoli come vogliamo noi come dice la legge non come ti sembra a te più giusto. Quindi quell'analisi lì oggi non è sufficiente assolutamente a motivare la rottura di un accordo internazionale con la Francia e la rottura di un contratto di finanziamento miliardario con l'Unione Europea perché noi non dobbiamo decidere se fare o non fare l'opera dobbiamo decidere se rompere un contratto e rompere un accordo internazionale è una cosa diversa. La devo interrompere perché andiamo in pubblicità ma ci rivediamo subito dopo per parlare della Tave e sentiremo anche l'onorevole Beghina se vuole replicare a lei. Cioè se l'Italia fosse la Svizzera o anche solo la Germania per carità costruiamo di tutto e di più ma l'Italia ha un problema di bilancio pubblico e di scarsità di investimenti per questo posso persino essere d'accordo con Totti che richiede estrema cautela in come si spendono i nostri soldi non t'imitichiamo che sono soldi tutti nostri quelle dell'Europa è una partita di giro è un'analisi dei costi benefici in cui contano le accise della benzina è come se uno avesse detto che lo Stato non deve scoraggiare il gioco ad azzardo perché incassa dei proventi capisce? Allora sono stati inclusi dei costi che non vanno bene e non sono stati valutati i benefici di un grande corridoio europeo che sposta le merci sul ferro che dà uno sviluppo sostenibile che attira investimenti che collega di più l'Italia con l'Europa ho visto queste analisi le hanno viste soprattutto degli esperti e ritengono che non siano esatte si ritengano che sia stata sottovalutata la capacità della crescita la capacità di crescita che può essere favorita dalla mobilità capacità di studio di approfondimento di rifuggire dall'approssimazione dall'improvvisazione elementi di cui il nostro paese studio approfondimento capacità di esaminare le questioni per la loro realtà a grande bisogno allora onorevole Begin ci siamo lasciati con le considerazioni del professor Zucchetti economista dei trasporti della Bocconi che ha criticato anche duramente nel metodo e nel merito l'analisi costi benefici del professor Ponti ha qualcosa da replicare ma guardi sarebbe interessante che organizzaste un confronto tra due economisti peraltro il professor Ponti è comunque docente al Politecnico di Milano e con lui si sono espressi fior di docenti e di esperti di economia dei trasporti della stessa università dell'università di Torino quindi eventualmente vi suggerirei di mettere a confronto le vostre opinioni perché non è che soltanto essere un accademico possa fornire la verità in tasca magari parlate la vostra lingua io però vorrei ricordare una cosa al di là delle indubbie capacità tecniche di ognuno l'analisi costi benefici che è stata fatta per il TAV è la stessa che è stata fatta in altre occasioni come per il terzo valico come per il TAP per esempio che ha portato a valutazioni completamente opposte quindi la stessa commissione dice il terzo valico seppur con una posizione dal nostro punto di vista anche abbastanza negativa ma è uno stato di avanzamento dei lavori ed ha delle particolarità tali per cui è più conveniente per l'Italia portare avanti questo tipo di opera stessa questione è stata fatta per il TAV non senza diversi contrasti e diversi mal di pancia all'interno del nostro stesso movimento noi con una posizione fortemente pragmatica abbiamo preso le distanze da connotazioni ideologiche rispetto alle opinioni sulle opere pubbliche ci siamo appunto affidati a degli esperti ora io mi chiedo perché nel primo caso quindi in TAP e in terzo valico siccome gli esiti della commissione sono graditi allora andava tutto bene e oggi invece si mette in discussione la veridicità di questa metodologia e di questa analisi questa è una domanda abbastanza importante che credo dovremmo farci questa è la prima considerazione e la seconda riguarda il fatto che mi dispiace ma da un punto di vista proprio economico io mi occupo di commercio internazionale mi sono sempre occupata di aziende se è pur vero che ovviamente le infrastrutture agevolano il commercio questo era vero molti anni fa quando non c'era una saturazione di mercato come noi oggi abbiamo quindi le infrastrutture che ci sono oggi sicuramente non sono all'altezza non sono adeguate si possono migliorare ma il punto di vista oggi è la priorità noi oggi abbiamo una coperta molto corta abbiamo una nazione che è da tempo il fanalino di coda europeo e questo non perché manca il TAV perché mancano tante opere molto più importanti e molto più prioritarie per lo sviluppo di tutta la nazione quindi nella misura in cui le risorse economiche a nostra disposizione sono molto limitate decidere di andare ad investire su un'opera il cui costo benefici dice che ci sarebbe uno spreco di 8 miliardi oggi non può essere considerato prioritario per il paese questo è l'unico punto che io vorrei rimarcare poi tutte le analisi possono essere contestate possono essere migliorate ma è un dato di fatto che oggi i commerci e le merci si muovono già tra la Francia e l'Italia mentre le persone non si muovono con altrettanta facilità all'interno delle stesse regioni le aziende fanno fatica ad avere persone a lavorare a far spostare nella mobilità del mercato del lavoro proprio per le difficoltà che noi abbiamo allora che cos'è più utile per lo sviluppo dell'Italia 57 chilometri di traforo in Val di Susa o sviluppare tutta l'Italia con delle infrastrutture che sono imprescindibili oggi molto più utili rispetto a quelle di cui stiamo parlando allora Gualtieri poi Zucchetti la domanda l'ha fatta l'onorevole Begin quindi ha preso il mio lavoro sì sì no ma sono davvero sorpreso di ascoltare queste cose le merci si muovono già quindi le merci si muovono già intasando il trasporto su gomma la rete autostradale che è al collasso primo ma dove? ma secondo i tir di Tesla i tir di Tesla elettrici siamo alla fantascienza cioè in tutto il mondo sì fra trent'anni vedremo tutto il mondo si va allo sviluppo di treni che sono più efficienti più ecologici più sostenibili guardi che in California hanno appena abbandonato il TAV ma dai ma siamo ma guarda guarda il mondo guarda il mondo poi questa analisi questa attenzione all'analisi costi benefici è davvero singolare perché uno deve ricostruire come si è arrivati a questa analisi costi benefici il ministro Toninelli ha scelto il ministro Toninelli ha scelto l'unico notav d'Italia con una posizione accademica per fargli dire quello che voleva lui lui si è fatto una commissione composta dai suoi collaboratori dai suoi dipendenti dalle persone no l'ha detto lui l'ha detto pubblicamente li ho potuti scegliere tutti l'unico che non ha potuto scegliere come voleva lui infatti si è rifiutato di firmare perché ha detto questa è una vergogna hanno scelto di adottare una metodologia che come è stato spiegato è la metodologia diversa non è la metodologia che si usa per questo tipo di cose hanno fatto degli errori incredibili che tutto il mondo ci sta ridendo dietro appunto hanno accorciato l'elemento temporale come dicevo prima hanno calcolato l'esternalità come solo se fosse una tratta nazionale non hanno considerato l'insieme della potenzialità dello sviluppo del mercato europeo e hanno quindi e soprattutto noi continuiamo a parlare tu stai continuando a parlare di questa come se noi decidessimo oggi da zero dove facciamo facciamo la metropolitana o facciamo la TAP questa è un'opera già iniziata cofinanziata dall'Unione Europea con soldi che noi perderemmo soldi che andrebbero da un'altra parte e solo per per bloccare per pagare le penali butteremmo una quantità di soldi dalla finestra sarebbe un evento sconcertante sarebbe un evento sconcertante dal punto di vista dello sperpero di denaro pubblico cioè si butterebbero centinaia di milioni di miliardi dalla finestra non solo per bloccare un'opera ma per rimediare un lavoro già iniziato e non ci sarebbero dove sono queste alternative che avete pronte che invece si farebbero bisogna fare certo bisogna fare tante infrastrutture in Italia voi le state bloccando voi avete fatto una manovra che ha tagliato gli investimenti pubblici voi avete bloccato tutti i cantieri d'Italia c'è il collasso degli investimenti nel paese quindi questa grande attenzione verso gli altri investimenti è pura propagandistica è propagandistica voi li state bloccando tutti gli investimenti e volete isolare l'Italia dalla grande rete quando stai dicendo che da un mese a questa parte si è bloccata l'Italia permetti mi sta facendo un pochino sorridere basta leggere i dati che dicono che da quando hanno letto il meraviglioso contratto di governo e da quando il signor Di Maio è andato sul balcone a dire spezzeremo le reni all'Europa poi salvo dover con la cota tra le gambe negoziare la flessibilità c'è stato il crollo degli investimenti il crollo degli investimenti e quindi il nostro grafico che stava andando così è andato così è andato così le persone avevano voglio dire abbiamo tutti su tocchi i grandi mirabolanti i risultati che voi avete ottenuto quindi non la metterai proprio su questo piano basta vedere i numeri basta vedere i numeri l'Italia si era rimessa faticosamente in cammino e adesso stiamo andando a picco stiamo andando a picco d'altronde la vostra prospettiva nella prima metà dell'anno cioè per effetto del nostro lavoro del nostro lavoro quando avete iniziato a fare le cose e il meglio deve ancora venire diciamo perché poi quando i cittadini il giorno dopo le elezioni invece di avere come dire la scarpa sinistra di quella destra che gli avete dato scopriranno che ci sono 30 miliardi di buchi quando si scoprirà quello che oggi è su tutti i giornali cioè che i famosi 2 miliardi di tagli vi leggo i 2 miliardi di tagli scusate 2 miliardi di tagli su mobilità università sviluppo che oggi il governo ammette che dovrà fare questa è l'unica cosa che hanno scoperto e quattro i gualtieri gualtieri credo che mi interrompi costantemente ma d'altronde adesso però adesso vi blocco io perché il sottotitolo era 90 giorni dall'elezione europea e la campagna elettorale è già abbondantemente iniziata allora professor Zucchetti senta io le vorrei chiedere una cosa perché gli italiani si sono trovati invischiati in tutti questi studi analisi costi benefici e abbiamo capito così da cittadini senza una laura in trasporti che si tratta di analisi complicatissime però ci spieghi ci sono davvero dei metodi certi per valutare se un'opera va fatta o no se redditizia o no oppure ciascuno si sceglie un po' il metodo sul quale ha più fiducia quando uno ha una malattia un po' grave va dal dottore il dottore non gli fa fare solo l'esame del sangue o delle urine gli fa fare magari anche l'attac poi gli fa fare la radiografia cioè si usano tante analisi e poi si guardano insieme il primo gravissimo errore è stato a far diventare l'analisi costi e benefici come l'oracolo è lei che ci dirà tutto no è un'analisi che dice certe cose non ne dice delle altre per decidere si mettono vicine diverse analisi proprio come fa il dottore e si cerca di capire quindi uno l'analisi costi e benefici non dà la risposta definitiva per esempio non tiene in nessun conto le ripercussioni gravissime che le nostre imprese avrebbero dalla rottura di un contratto con la Francia perché dopo gli imprenditori francesi diranno ma voi siete quelli che quando fate un contratto poi dopo lo cambiate no quindi uno non basta l'analisi costi e benefici secondo con ricette e ingredienti diversi escono torte diverse lo sappiamo tutti e quindi anche l'analisi costi e benefici a seconda di come la fai può dare un risultato quell'altro questo problema è noto da tempo per questo motivo il ministero dei trasporti e l'unione europea hanno dato delle linee guida cioè la ricetta se vuoi fare un'analisi costi e benefici perché io decida di finanziare la fai così così e così bene questa analisi non segue quella ricetta questo è il problema metodologico che non è un problema strano è che se noi vogliamo parlare con l'Europa e con il ministero con la legge che c'è oggi perché le linee guida sono state approvate dal Cipe e sono un atto formale dobbiamo fare l'analisi in quel modo lì e loro la fanno diversa allora questo è il problema risposta l'analisi costi e benefici è uno strumento utile non è l'unico strumento per decidere secondo se vuoi usare l'analisi costi e benefici la fai come le linee guida indicano di preciso mi permetto poi di dire altre due cose l'onorevole è informata male l'analisi costi e benefici sul terzo valico fatta dal gruppo Ponti è negativa basta andare sul sito del ministero scaricare l'allegato e si vede il ministero ha poi detto ma si può anche calcolare senza le accise e togliendo le accise cioè smettendo l'analisi del professor Ponti ha detto il terzo valico va bene continuarlo quindi il professor Ponti è già stato smentito dal ministero e dal ministro nel caso del terzo valico basta andare sul sito del ministero e leggersi le poche pagine e si capisce ultima cosa che dico quanto ci costa la linea ferroviaria moderna Torino-Lioni ci costa 5 miliardi e 82 milioni questo è il costo che in totale ricadrà sull'Italia di questi 400 milioni abbiamo già spesi quindi andare a rompere il contratto con la Francia andare a rompere il contratto con l'Unione Europea dover indennizzare e mettere a posto a fronte di un risparmio di 4 miliardi e 7 questo è il numero perché continua a girare un numero di 20 miliardi no in totale questa nuova linea costerà all'Italia 5 miliardi e 82 milioni Onorevole Begin il Presidente della Regione Piemonte Chiamparino porterà la richiesta di non lo chiama referendum ma insomma la chiama la consultazione sulla Tav in consiglio regionale questo martedì vorrebbe anche che votassero i 16 anni lei che cosa ne pensa di questa iniziativa? Guardi intanto sarebbe opportuno fare molta più chiarezza su questi numeri perché ne vuole rispondere dopo al referendum adesso risponde a Zucchetti io le rispondo anche su questo vorrei che ci fosse un pochino più chiarezza perché veramente l'informazione che viene fatta è sempre molto parziale i 20 miliardi di cui si parlava comunque erano del costo totale dell'opera e ricordiamo anche che l'opera insiste per due terzi del territorio francese per un terzo in quello italiano e non si capisce per quale motivo deve pagare due terzi l'Italia e soltanto un terzo la Francia e non sono soltanto 5 miliardi anche in questo caso mettetevi a tavolino e decidete voi accademici perché uno dice che con quest'opera ci costerebbe 8 miliardi rispetto ai 5 che dice il professor Zucchetti invece sulla questione del referendum certo non ci tiriamo indietro noi sul referendum che ne abbiamo sempre fatto una nostra bandiera è evidente che il referendum deve però prendere molto tempo e questo non è una decisione immediata forse sarebbe più utile arrivare a una decisione in tempi più brevi visto che dall'altro lato ci si accusa di bloccare tutte le opere italiane infatti vediamo come ci giriamo un cantiere fermo effettivamente io non l'ho ancora visto però probabilmente io e il collega Gualtieri abitiamo in due zone d'Italia differenti dove abita Gualtieri? lo faremo se fosse necessario Roma andiamo la grande quanto a mobilità Gualtieri abita a Roma lei Beghina a Genova io abito ad Alessandria e tra Alessandria e Genova di cantieri ne abbiamo e ne abbiamo soprattutto bisogno non da ultimo qui proprio a Genova dopo il crollo del Ponte Morandi che non è assolutamente bloccato anzi sta andando avanti abbiamo bisogno dell'asticunio opera che invece è stata bloccata per decenni quando il Movimento 5 Stelle ancora non esisteva abbiamo bisogno di tratte ferroviare abbiamo bisogno di tante opere quindi oggi onestamente accusare il Movimento 5 Stelle di bloccare l'Italia non soltanto è pura propaganda ma è anche una grande fake news che però per fortuna i cittadini sono in grado di osservare con i loro occhi visto che hanno vissuto tutti gli anni precedenti e stanno vivendo ancora oggi Enrico Singer direttore dell'Agenzia Nova sì ma io devo dire capisco la polemica politica siamo già siamo sempre in periodo preelettorale in periodo di polemica però personalmente ho vissuto molto all'estero negli ultimi anni ho vissuto 18 anni all'estero e vedere che in Italia su qualunque cosa più che diciamo i fatti si discute sull'opportunità su tu hai fatto questo io ho fatto quest'altro è un po' diciamo è un po' deprimente perché negli altri paesi fanno nel frattempo io ricordo io ero in Francia quando fu inaugurato il TGV il train Grand Vitesse che è praticamente la TAV ecco si andava da Parigi a Lione c'era il processo a Klaus Barbie nell'87 in tre ore qualche cosa sembrava un miracolo in Italia doveva cominciare il pendolino quel trenino che per carità si inclinava quindi riusciva a ottimizzare le vecchie linee ora che ci sia un ritardo in Italia è evidente ma si cominciava a dire bisogna fare la metropolitana bisogna fare la TAV bisogna fare il TAV bisogna fare il TAV per collegare Roma con Matera bisogna fare il TAV in Sicilia bisogna fare il TAV in Italia ma infatti il TAV in Italia Milano e Roma ormai sono collegate con il treno e questo tra l'altro nel discorso delle prospettive fra trent'anni che cosa succederà questo il treno con la TAV sta già dando un colpo al trasporto aereo non a caso anche la crisi all'Italia che è un altro capitolo però rientra in questo quando il collegamento si fa con il treno più o meno con gli stessi temi dell'aereo a costi minori in Francia tra Parigi e Bruxelles voi siete eurodeputati lo dovreste sapere c'è il TALIS e si va con un'ora e cinquanta col treno il corto raggio aereo praticamente già quasi non esiste più e può darsi che fra trent'anni avremmo i tir elettrici ma al momento non abbiamo né i tir elettrici né i treni ad alta capacità abbiamo soltanto questa linea che fa nord-sud in Italia io non voglio entrare non voglio dare ragione a nessuno perché il ruolo di noi giornalisti credo deve essere quello degli osservatori e di provocare reazioni e domande però ho la sensazione che questo dibattito e anche vorrei dire una cosa a nome io ero a Bruxelles quando hanno deciso le linee trasfrontaliere i corridoi era il 2003 sono passati 16 anni è possibile che in 16 anni ci sono stati i governi da Berlusconi a Prodi la sinistra cioè forse il movimento Notav ha dato fastidio o ha fermato anche poi i governi diciamo di centro-sinistra perché in 16 anni il traforo poteva essere fatto tranquillamente è una domanda a me? se vuole rispondere se no andiamo in pubblicità la vicenda è nota naturalmente della Tav c'è stato poi un passaggio importante nel 2006 quando la prima data di movimenti ha portato anche a ridefinire il percorso poi nel 2012 c'è stato diciamo così la definizione del tracciato e l'accordo l'abbiamo firmato nel 2015 2016 se non ricordo male con i governi di centro-sinistra e noi firmato l'accordo abbiamo subito iniziato i lavori solo che poi è arrivato Toninelli che ha nominato il suo consulente per fargli una domanda di cui già sapeva la risposta e ora vuole bloccare una cosa iniziata quindi premesso che io sono perfettamente d'accordo che si sarebbe potuto fare prima questo non è una buon ragione una volta che finalmente si è iniziato per dire no ci siamo sbagliati torniamo indietro rinunciamo a un cofinanziamento europeo creiamo un disastro dal punto di vista delle relazioni con gli altri paesi facciamo un danno alle nostre imprese facciamo un danno alla nostra economia perché invece poi senza che peraltro tutte queste cose molto belle astratte di cui ci parla la collega non è che sono dicendo allora prendiamo da qui e lo mettiamo qui e in tot anni facciamo questa cosa no non è vero si possono fare entrambe le cose se c'è un governo che si occupa delle infrastrutture e dello sviluppo sostenibile qua invece il rischio è che non si fa nell'una nell'altra cosa fortunatamente Toninelli non è arrivato in tempo per bloccare anche la Roma Milano ma appunto se avessimo avuto probabilmente Toninelli e il professor Ponti oggi non avremmo neanche la possibilità di andare in treno tra Roma e Milano perché Toninelli avrebbe detto ma cosa mi importa a me di arrivare mezz'ora prima a Milano ma cosa con questa logica come dire saremmo ancora fermi a parecchio a un periodo precedente della nostra storia quindi è davvero un momento drammatico quindi noi ci pigliamo tutte le responsabilità e quindi diciamo anche ritrospettivamente me le prendo però vorrei come dire far notare pagatamente che qua siamo di fronte a un evento eccezionale cioè un trattato firmato dei lavori cominciati i soldi dell'Unione Europea e a un certo punto arriva un signore che dice no aspettiamo decidiamo una commissione indipendente poi nomina una commissione che la pensa come lui dice ah ma la commissione purtroppo mi dice questa cosa che dobbiamo bloccare dal punto di vista è una pagliacciata è una cosa imbarazzante tutto il mondo lo sa insomma ci stanno ridendo tutti ma il problema è che stiamo rischiando di fare e la cosa che io vedo ancora poi adesso l'onorevole Begin persiste ovviamente nella sua dura posizione no tav la verità è che probabilmente siccome poi comanda la Lega alla fine si farà un pasticcio si farà una via di mezzo dovrete salvare la faccia direte no ma abbiamo cambiato questa cosa nel frattempo si saranno persi soldi si farà una tav più brutta meno efficiente perché così questo grande compromesso politico tra le due forze di governo che è diciamo la pietra angolare su cui noi dobbiamo poi definire lo sviluppo per generazioni avrà trovato la sua momentanea tra il caso Diciotti e il caso non so cosa quindi noi siamo davvero appesi a delle vicende molto diciamo contingenti e di grande spessore e da questo facciamo dipendere grande scelte che avranno impatti decennali se non secolari sul futuro dei nostri discendenti e noi le leghiamo a come ha votato 5 Stelle su Salvini è una stagione deprimente che speriamo finisca per non devo andare in pubblicità un mondo politico così sereno e così bello da cui ci avete lasciato voi con uno dei più alti tassi di corruzione che abbiamo in Italia ecco forse di queste cose non si è parlato abbastanza scusate dobbiamo andare in pubblicità lei ha fatto lei sì abbiamo in pubblicità abbia pazienza dobbiamo andare in pubblicità vorrei ringraziare però il professor Roberto Zucchetti economista di trasporto dell'università Bocconi professore sinteticamente se lei volesse scommettere 10 euro la TAV si farà sì o no? sicuramente si farà ok c'è una legge che dice la facciamo per smontarla bisogna andare in parlamento e avere i voti i voti in parlamento non ci sono grazie professor Zucchetti restate con noi perché dopo ci collegheremo anche con Bruxelles con Pablo Rodriguez su Anzes corrispondente del Mundo e parleremo di altre cose molto interessanti restate con noi capite che dobbiamo andare in Europa però questa volta non all'opposizione ma al governo a dire ai signori di Bruxelles non rompete le palle a chi lavora lasciate che i testatori facciano i testatori gli allevatori gli allevatori gli imprenditori una cosa alla volta la nostra porta è spalancata crediamo che già insomma l'alleanza e l'amicizia che da sempre lega l'Ungheria di Orban anche alla Polonia di Kaczynski il gruppo di Visegrad al quale noi guardiamo con grande interesse che oggi è insomma rappresentata per lo più nei conservatori sia anche in realtà la famiglia ideale di Viktor Orban quindi se il PPE dovesse decidere di insomma espellerlo saremmo felici poterlo accogliere noi quello che ci dicono le proiezioni che abbiamo pubblicato ieri è che il Parlamento europeo sarà un Parlamento con una chiara maggioranza dei partiti delle forze pro-europee è certo che ci sarà anche una parte diciamo eurosceptica ma che secondo queste proiezioni è soltanto il 20% dell'emiciclo l'altro 80% saranno dei deputati pro-europei o in favore di continuare con l'integrazione europea e poi certo sarà un Parlamento più fragmentato dove i grandi gruppi saranno un po' più piccoli e qualche piccoli gruppi saranno un po' più grandi allora 90 giorni più o meno giorno più giorno meno alle elezioni europee do il benvenuto a Pablo Rodriguez Suances corrispondente di El Mundo da Bruxelles dove è collegato buongiorno Pablo ciao buongiorno eccoci qua allora grande fermento in Italia ma insomma un po' in tutta Europa perché i partiti si stanno posizionando stanno cercando un po' di annusare vari alleati in giro per l'Europa per eventualmente formare dei gruppi e poter contare ovviamente all'indomani delle elezioni europee vorrei chiederti secondo te secondo l'area che tira come come si dice qua alla 7 dove abbiamo una trasmissione che si chiama così l'area che tira a Bruxelles quali potrebbero essere i cambiamenti ad esempio abbiamo sentito che Giorgia Meloni che fa parte di leader dei Fratelli d'Italia parlava di Orban nelle ultime ore i vertici dei cristiano democratici tedeschi stanno proponendo addirittura di cacciare Orban dal PPE è così? Sì 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 è la prima volta che infatti il partito popolare europeo veramente comincia questo dibattito interno c'è stato prima del Natale a novembre c'è stato il congresso che hanno fatto i popolari a Helsinki in Finlandia lì è stato chiaro che ha vinto il tedesco Manfred Weber c'erano due candidati un finlandese Stubb che voleva cacciare subito come Juncker volevano cacciare subito Fides dal partito popolare europeo e invece ha visto Manfred Weber che voleva che Fides rimanga o voleva che rimanesse dentro del partito popolare europeo questa settimana invece dopo l'ultimo attacco molto grave da parte di Orban contro Jean-Claude Juncker il presidente della commissione tutte le grandi forze tedesche CDU CSU hanno fatto per la prima volta un attacco coordinato a dire a Orban o la smetti subito o dobbiamo cacciarti via questo è molto importante per due ragioni una per il discorso pubblico la linea che vogliono rimanere le forze pro-europee che non possono avere tra di loro un personaggio come Orban un partito come Fides che è chiaramente contro lo spirito di tutti gli altri ma il secondo il secondo problema è cosa succede se Fides va via per esempio ci sono dentro il partito popolare delle forze delle famiglie politiche che ricordano quello che è capitato in Inghilterra nel Regno Unito quando Cameron ha portato i Tories fuori dal TPI e eventualmente hanno portato al Brexit c'è il pericolo adesso che se Orban viene cacciato via dalle popolari questo sistema che lo può più o meno di contenzione di rimanere entro le regole europee scoppi e che non sia e sparisca tutta la possibilità di avere un controllo su di lui su di le forze e si faccia un'alleanza con quella che cerca Bannon con molti più gruppi euroscettichi conservatori di tutta l'Europa e loro possano fare un frente molto più solido molto più forte che sebbene queste ultime proiezioni che abbiamo sentito già appena qualche minuto prima parlare dicano che sono sotto il 33% una minoranza di blocco e sono ogni volta più forti se Orban si aderisce non sappiamo cosa possa essere il risultato fra qualche mese grazie Pablo onorevole Begin a che punto è il vostro annusarsi con i gile gialli ma guardi è decisamente un'esperienza marginale rispetto a quello che invece è il lavoro che si sta facendo per trovare altre forze post ideologiche come siamo noi e che siano una alternativa ai grossi blocchi che oggi si profilano rispetto alle prossime elezioni europee cioè il blocco dei sovranisti e il depotenziato la depotenziata grande alleanza tra i popolari e i socialdemocratici i gile gialli a parte che sono una formazione estremamente eterogenea a loro interno ci sono le sensibilità le più diverse e è nata più che una tentativa di alleanza una richiesta di informazioni da parte di un gruppo che ha intenzione di fare forse di fare una lista o di posizionarsi in qualche modo come intercettatore della protesta dei gile gialli e provare a inserirla e portarla nelle istituzioni esattamente come fece il Movimento 5 Stelle tanti anni fa quindi per fugare ogni ulteriore dubbio su questa cosa l'incontro è stato tra due forze politiche semplicemente per scambiarsi esperienze riguardo alla nascita di un movimento che intercetta un certo tipo di dissenso rispetto a una politica ahimè sempre più distante dai cittadini come dimostrano anche tutti i sondaggi e la volontà invece di restituire le istituzioni ai cittadini stessi attraverso appunto forme di democrazia partecipativa e diretta e questo è stato lo scambio noi oggi ci stiamo invece muovendo con forze politiche simili a noi che esistono e che possono fornire una valida alternativa rispetto quali sono noi abbiamo presentato il 15 di febbraio a Roma il nostro progetto con i 10 punti per un'Europa diversa un'Europa per i cittadini e abbiamo con noi in questo momento i croati del muro vivente come si dice i polacchi di Kukiz abbiamo i greci di Hacker che sono un partito di piccoli agricoltori e i finlandesi stiamo parlando con altre forze politiche molto simili a noi il punto che chiaramente ognuno di noi è diverso come è normale nelle famiglie europee anche quelle tradizionali perché chiaramente è legata alle specificità e alle storie politiche di ogni paese ma quello che ci unisce ci contraddistingue è la volontà di riportare al centro dell'agenda politica il benessere dei cittadini e la partecipazione soprattutto attiva dei cittadini alla vita politica Enrico Singio ma anch'io vorrei fare una domanda all'onorevole Beghini partendo proprio da quello che abbiamo sentito dire a Salvini nell'introduzione di questa parte del dibattito Salvini ha detto noi vogliamo andare in Europa ma questa volta vogliamo andare per governare quindi non credo che voglia andare in Europa a governare l'Europa con il Movimento 5 Stelle e gli altri piccoli alleati che sicuramente formeranno un gruppo autonomo ma non delle dimensioni tali per riprodurre un contratto di governo tipo quello che c'è in Italia anche in Europa per cui io volevo chiedere ma il vostro rapporto con la Lega che in Italia adesso con le elezioni non parliamo delle elezioni di domani perché è vietato ma con le elezioni regionali dove la Lega si accorda con il centrodestra e la Lega che dice in Europa andiamo a governare evidentemente con il Partito Popolare Europeo e magari con il Partito della Meloni non fa diventare un po' un'eccezione questo accordo questo contratto di governo che c'è in Italia ma guardi io è una cosa che ripeto spesso mi rendo conto che è difficile ragionare per paradigmi diversi rispetto a quelli a cui si è abituati il Movimento 5 Stelle è un'esperienza politica decisamente diversa rispetto alla tradizione in cui le idee e i risultati che portino benefici sono al primo punto e le alleanze non fanno parte del nostro DNA politico con la Lega noi abbiamo un contratto di governo che permette di portare avanti punti che sono prioritari non sono gli unici necessari ma sono quelli indispensabili questo lo facciamo oggi in Italia sulla base di una legge elettorale che esiste in Europa non si va a governare tantomeno al Parlamento europeo si potrà andare a governare e non potrà farlo Salvini che probabilmente non conosce neanche troppo bene i meccanismi visto che quando era eurodeputato lo vedevamo anche abbastanza di rado devo dire ma si può incidere molto lavorando nello stesso modo con cui noi ci siamo approcciati alla scena europea cinque anni fa ricordo il cordone sanitario con cui molto elegantemente con un fair play tutto europeo c'erano state negate tutte le cariche che il metodo don't ci riconosceva per una prassi non per un regolamento ma per una prassi consolidata e a distanza di quattro anni il nostro Fabio Massimo Castaldo è stato eletto vicepresidente pur in contrasto con tutte le indicazioni di partito proprio per aver dimostrato noi tutti eurodeputati del Movimento 5 Stelle grande cooperazione grande collaborazione aver inciso molto nell'attività legislativa europea cosa che si può fare lavorando sui temi e sulle questioni non semplicemente con le alleanze lo scenario politico sarà molto diverso nonostante qualcuno cerchi ancora di arroccarsi a delle speranze e a cercare di convincere che la formula europea abbia funzionato sarà molto diverso ma sono convinta che si riuscirà ancora a lavorare in modo profittevole come noi siamo riusciti a fare in questi cinque anni io e i miei colleghi abbiamo lavorato su più di 1300 dossier in questi anni e questa è quella credibilità che riporta l'Europa questo il collega Gualtieri lo potrà confermare perché lui stesso Gualtieri conferma se apparteniamo a dei partiti differenti abbiamo anche collaborato con lui spesso andate d'amore d'accordo siamo più fortunati perché forse a volte riusciamo anche a fare sistema paese cosa che in realtà dovremmo fare molto di più perché la nostra debolezza a livello di Italia è anche questa frammentazione tra partiti che ci porta ad essere costantemente in campagna elettorale forse in Europa siamo un po' più lontani dai riflettori e riusciamo ad interagire meglio quando mettiamo da parte gli interessi di partito e mettiamo invece davanti quelli dei cittadini siete come i ladri di Pisa che poi litigano ma vanno a cena fuori sono contento di poter essere finalmente oggi d'accordo per una volta con la mia collega che in effetti la partecipazione il track record di presenza di Salvini è pari solamente a quello dei consigli dei ministri dove non va mai quindi mantiene la tradizione mentre è vero che con alcuni almeno colleghi il Movimento 5 Stelle c'è un lavoro parlamentare di differenza di discussione anche su dei temi anche di collaborazione ma questo è la è perché effettivamente non esiste lì la maggioranza l'opposizione io però sono preoccupato del fatto che mai esiste un lavoro legislativo parlamentare su cui si cerca di condizionare i dossier di portare a casa come si dice dei risultati positivi e alcune volte lo abbiamo fatto dividendoci ma per esempio quando abbiamo lanciato l'iniziativa di evitare che la Cina venisse dato lo status di economia di mercato quella è stata una battaglia per esempio nazionale tra virgolette che abbiamo fatto insieme sulla TAV invece abbiamo posizioni molto diverse io però sono molto preoccupato di questa scelta invece di alleati che in qualche modo ripropone questo modello l'alleanza con Farage perché questi ora capisco Begine deve dirlo perché abbiamo appena fatto l'alleanza ma il movimento polacco è un movimento di estrema destra con connotazioni omofobe assolutamente no lei sa benissimo che è un movimento è un movimento i croati sono degli squatter occupatori di case i finlandesi sono liberisti i greci non entreranno mai in Parlamento è un'armata a Branca Leone e poi francamente mi sarei aspettato forse è stato un modo involuto per farlo ma un po' una chiedere scusa per questo incidente di aver incontrato quel pazzo dice Lansson che creando una crisi diplomatica è andando a incontrare un signore che chiede un golpe militare di destra in Francia che sostiene atti di vandalismo di distruzione quello è stato un vicepresidente del consiglio e anche voi che siete andati quello è stato un infortunio un infortunio gravissimo quindi voi non potete ma non potete fare il gioco delle tre carte potete far allearvi con personaggi improbabili può dire noi siamo diversi la verità è che vi alleate perché avete bisogno dei numeri per fare un gruppo per così accedere al finanziamento pubblico questa diciamo è la ragione è bene dirla dopo che non c'è niente di male però sarebbe bene diciamo cercare delle reconvergenze sui programmi e non sul potere e non sul potere ma qui però io vorrei dire una cosa il punto è un altro il punto è un altro il punto è un altro il punto che noi avremo perché i dati sono chiari persino queste proiezioni che danno secondo me sovrastimano forze con il Movimento 5 Stelle che mi sembrano abbastanza impicchiate dal punto di vista dei consensi ma persino questi sondaggi dicono una cosa molto chiara come è stato ricordato prima nel servizio e cioè che le forze anti-europee saranno minoranza quindi non avremo una situazione del tutto inedita in cui avremo i due partiti di governo che nel Parlamento europeo saranno confinati in piccoli gruppi marginalizzati all'estremità destra dell'emiciclo non avranno quindi avranno meno incarichi di relatori di presidenti di commissione non avranno la possibilità di incidere quindi avremo un aumento dell'isolamento dell'Italia cioè voi ci state mettendo in minoranza in Europa non solo con le politiche con le GAF con gli errori con la TAV con i gile gialli ma proprio col fatto che voi vi andrete a collocare all'estrema destra isolata e minoritaria dell'emiciclo quindi noi abbiamo questa propaganda di Salvini che tutti i giorni dice con noi cambieremo l'Europa adesso ma la verità è che lui sarà se va bene del quarto gruppo europeo e voi del quinto del sesto cioè non avrete la possibilità di incidere questo io dico meno male perché conosco ma questo però è un problema per l'Italia per cui noi abbiamo abbiamo un governo che non partecipa alle riunioni europee non fa neanche i consigli dei ministri quindi abbiamo un non governo ci apprestiamo ad avere una rappresentanza in Europa dei partiti di governo molto deboli abbiamo un partito popolare pieno di contraddizioni con la destra di Orban che si vuole Berlusconi con il grande ritorno Berlusconi alleare a Salvini io dico la vera scelta per l'Europa per il cambiamento per il lavoro lo sviluppo la democrazia è sostenere i progressisti europei che vogliono creare un grande schieramento progressista e pre-europeo da Macron a Tsipras per rilanciare l'Europa per completare il cantiere europeo e anche per cambiare le politiche europee non parli di cantieri perché qua in Europa è abbastanza no perché l'Europa è una grande incompiuta voi se c'è questa critica all'Europa è una critica alla soluzione ai problemi il problema è che serve completare serve una politica europea più forte sull'immigrazione sul lavoro non meno Europa e i vostri alleati sono tutti anti-europei quindi non avrete la possibilità di esercitare un ruolo poi magari dovrete votare alla fine per seguire le nostre liste di voto come a volte fate perché poi sui vani provvedimenti ma questo vi renderà proprio impossibile incidere e non le ho mai seguite quindi come dire quello che invece bisognerebbe dire è che siete voi che molto spesso votate in informità dei socialdemocratici e della scelta dei progressisti europei del partito democratico e di un grande fronte progressista ed europeista ok pubblicità ci vediamo subito tra poco e continueremo a parlare dell'elezione europea al cuore del dibattito sui meriti della cooperazione europea sta una percezione che in superficie appare inevitabile da un lato l'integrazione genera indubbi benefici dall'altro perché questi si materializzino è necessaria una cooperazione talvolta politicamente difficile da conseguire e anche da spiegare questa tensione tra benefici dell'integrazione e i costi associati con la perdita di sovranità nazionale è per molti aspetti e specialmente nel caso dei paesi europei solo apparente in realtà in molte aree l'Unione europea restituisce sui paesi la sovranità nazionale che avrebbero oggi altrimenti perso ciò non implica che si abbia bisogno dell'Unione europea per qualsiasi cosa ma in un mondo globalizzato l'Unione europea diviene oggi ancora più rilevante Allora così Mario Draghi ricevendo la Laura Honoris Causa una tesi che trovate sui giornali di questa mattina sostanzialmente l'Unione europea ha restituito sovranità a molti paesi perché così dice il Presidente dell'ABC consente appunto all'Europa di andare ad esempio a negoziare con accordi internazionali che i singoli paesi non potrebbero fare ci sono molti commenti questa mattina sui giornali vi leggo anche però i commenti che stanno arrivando sull'hashtag Omnibus La7 vale a dire su Twitter la signora Valeria Bacchi e questo Gualtieri è per lei certo se l'Europa verrà cambiata con le politiche di Macron e Tsipras come dice il PD vorrà dire che i gileggialli riempiranno l'Europa intera magari questo dopo risponderà invece vorrei andare a Bruxelles da Pablo Rodriguez Suanzis corrispondente di Il Mundo perché i nostri vicini spagnoli voteranno tra poco ricordiamo ma come fate a gestire le elezioni politiche un mese prima di quelle europee e soprattutto ci sono dei partiti antisistema ed euroscettici da voi La prima domanda come la facciamo a gestire io penso che non ce la facciamo a gestire infatti abbiamo le elezioni nazionali il 28 aprile un mese prima di quelle locali regionali ed europee quello significa che un Parlamento molto frammentato che uscirà dal 28 aprile nella quale non c'è chiara adesso una maggioranza né a destra né a sinistra sembra più chiara un po' più chiara a destra ma non è per niente confermato dovranno avere delle conversazioni per fare governo allo stesso tempo nelle stesse settimane nelle quali c'è la campagna per le elezioni regionali locali ed europee una situazione più incasinata di quella italiana no facciamo un livello non c'è mai una situazione più incasinata che quella dell'Italia non importa di quello che parliamo ma ci assomiglierà abbastanza senza dubbio la seconda domanda sì abbiamo adesso emerso per la prima volta in Spagna in democrazia un partito alla destra del partito popolare non è capitato dagli anni 80 Box ci abbiamo box box è un partito loro si riferiscono a se stessi come un partito conservatore democristiano sono nati tempi fa dai personaggi del partito popolare hanno considerato che la linea di Rajoy non era adatta era troppo debole si bisognava nelle politiche sociali ma pure quelle quanto riguarda Catalonia una linea molto più dura secondo le proiezioni del Parlamento europeo per le elezioni europee del 26 di maggio prenderebbero sei deputati secondo la media dei sondaggi che si fanno a livello nazionale per il 28 aprile stiamo parlando magari di 25 che sono moltissimi Enrico Sinja sì io prima ho fatto una domanda all'onorevole dei 5 Stelle quindi questa volta vorrei chiedere una cosa a Gualtieri perché prima diceva che questa unione che si profila in Europa tra Macron e il Partito Socialista ma Macron è nell'alde nel movimento dei liberali che molto probabilmente con i risultati delle prossime elezioni entrerà in modo strutturale diciamo nella maggioranza e il gruppo socialista è quello che è dato da questo sondaggio dei sondaggi in perdita maggiore con 56 euro deputati in meno e molti presumibilmente saranno italiani che verranno a mancare ecco la vede questo nuovo equilibrio dell'Europa con ancora il movimento socialista protagonista o messo da parte sostituito da Macron dai liberali e dal partito popolare che bene o male resterà il primo partito queste proiezioni sono la media degli ultimi sondaggi e quindi noi auspichiamo che crediamo possiamo avere dei risultati migliori detto questo sono dei numeri che non tornano bene perché quello che ha detto meno 50 sono numeri assoluti non si tene conto che diminuiscono i numeri di tutti i deputati europei per la Brexit quindi bisognerebbe fare le percentuali quindi con le percentuali il potenziale ridimensionamento dei socialisti che perdono anche una forte delegazione con i laboristi è piuttosto contenuto tant'è vero che i socialisti democratici europei sono dati comunque come il secondo gruppo quindi erano dati per finiti e invece saremo il secondo gruppo e potremmo fare io penso molto meglio a partire dall'Italia proprio di quanto riga questo sondaggio i liberali sono in crescita io non penso di mescolarsi io voglio stare nel gruppo socialista e democratico il partito democratico è saldamento orgogliosamente nel gruppo socialista e democratico noi però vogliamo creare un polo progressista più largo mettendo insieme le forze liberali ambientaliste socialiste progressiste quindi usavo questa formula da Macron per diventare il baricentro e per evitare invece che il presidente della commissione sia espresso dai conservatori dai popolari tedeschi quindi noi vogliamo creare un'alternativa a questa diciamo popipie che va verso destra creare un baricentro maggioritario progressista e poi costruire il Parlamento come si fa perché appunto non bisogna scambiare la logica del Parlamento quella di un meccanismo nazionale costruire da lì poi delle maggioranze sui temi per spostare nella direzione più progressista europeista le maggioranze e le politiche concrete dell'Unione Europea non dimenticando i risultati che pur avendo il 25% in questo Parlamento abbiamo ottenuto perché noi abbiamo ottenuto la flessibilità il piano di investimenti abbiamo ottenuto delle cose importanti ma soprattutto sottolineando quello che bisogna fare bisogna fare delle regole più robuste per impedire questo meccanismo di spostamento e l'usione dei profitti da parte delle grandi multinazionali io da questo punto inizia sono un po' triste che il governo italiano voti contro questa riforma del copyright che non piace alle grandi piattaforme americane ma che invece penso sia una riforma pur con alcuni limiti positiva dobbiamo avere un grande piano di investimenti dobbiamo costruire un ammortizzatore sociale europeo dobbiamo approvare questa riforma di Dublino abbiamo molte cose da fare ed è importante che il baricentro e il Parlamento si sposti verso le foste progressiste io penso che sia possibile perché io penso che quanto più si capirà che non c'è un'alternativa anche perché Salvini e i suoi alleati loro sono uniti dal fatto di non voler condividere le cose quindi non è un programma europeo se uno legge ognuno dice Italy first poi dentro Italy le regioni ricche del north first ma non c'è un programma comune non c'è la condivisione di sovranità che come appunto diceva giustamente Draghi è la condizione per recuperare sovranità in realtà i sovranistici vogliono far perdere sovranità anzi alcuni diciamo sono favorevoli a che la sovranità la mantengono altri pezzi del globo noi vogliamo costruire una più forte sovranità europea perché è la condizione per avere una sovranità democratica italiana se noi oggi non fossimo nella banca centrale europea dove peraltro esprimiamo il presidente e possiamo decidere insieme le politiche monetarie della seconda moneta più grande del mondo la piccola lira dovrebbe solo adeguarsi alla politica monetaria scelta dai tedeschi dagli americani quindi noi saremo meno sovrani non più sovrani quindi l'argomento va proprio ribaltato è l'Europa che ci consente di recuperare sovranità nel mondo di oggi non è l'Europa che ce la fa perdere naturalmente deve essere un'Europa più democratica più sociale più progressiva e per questo le ambiguità poi io rispetto voglio dire così siccome ci siamo scontrati la collega Beghin è una collega che lavora quindi io rispetto sempre i colleghi che lavorano anche quando abbiamo opinioni diverse però poi ci sono delle differenze talmente evidenti e quindi il voto utile è quello per un schieramento progressista europeista democratico Onorevole Beghin l'Istituto Cattaneo ha analizzato in una pubblicazione i vostri voti i voti del Movimento 5 Stelle al Parlamento Europeo e ha notato che voi nel 74% delle volte in cui avete votato lo avete fatto in affinità con i verdi nel 71% con i socialisti nel 68% con i liberali nel 67% con la sinistra radicali meno del 50% in sintonia con i partiti del vostro gruppo di appartenenti che si chiama EFDD e addirittura il 43% con la Lega quindi sembra che andiate più d'accordo con gli amici dei Gualtieri e i Verdi com'è possibile? A me sembra che questa cosa dimostri esattamente che abbiamo una grande varietà un'eterogeneità delle nostre votazioni che è perfettamente in linea con quello di cui parlavo prima cioè il fatto che noi ci esprimiamo sui singoli provvedimenti e non per partito preso su delle ideologie che è quello che rimproveriamo alle grosse coalizioni è innegabile io capisco che si è iniziata la campagna elettorale vedo che la si sta già approcciando con i toni da venditori di pentole da cui ci aveva abituato Renzi con parole roboanti che poi nei fatti si sono dimostrate assolutamente nulle per quel che riguarda la messa in pratica di ciò che si prometteva e l'esempio e la conferma sono i risultati desolanti per quel che riguarda il 70% avete votato le stesse cose come si è appena detto è un'autocritica immagino no 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 sto parlando di quello che voi avete realizzato quello che sto dicendo è che voi vi siete spartiti poltrone e incarichi quello che voi volete fare con i grossi gruppi fondamentalmente è quello avere voce in capitolo per mettere la determinata persona su una presidenza e quant'altro poi quando si tratta invece di andare a lavorare sui provvedimenti diventa sempre un po' più difficile capire a chi risponde a che cosa noi invece dimostriamo di avere un pragmatismo ed una volontà di analizzare ogni singolo provvedimento e votare sulla base di quello che riteniamo più utile per i cittadini e in questo caso siamo riusciti a collaborare con tutto l'emiciclo sui vari provvedimenti non è un segreto che abbiamo una forte anima ambientalista e attenta all'ambiente cosa che ci vede particolarmente vicini ai verdi che peraltro però molto spesso si rivelano assolutamente insensibili da un punto di vista per esempio dell'austerità delle politiche monetarie quindi non esiste un gruppo politico oggi che metta solo il cittadino davanti a tutto ma normalmente ci sono logiche di partito che guidano la formazione dei gruppi in Europa noi a questo gioco non ci vogliamo giocare preferiamo rimanere in un gruppo piccolo come abbiamo fatto nel quinquennio precedente cosa che ci ha permesso di lavorare anche lì vorrei sfatare un mito Gualtieri lo sa anche lei in realtà se si andasse nei non iscritti i singoli deputati hanno comunque dei fondi per la loro attività personale quello che manca da un punto di vista dei fondi invece è il gruppo cioè la possibilità di avere personale che lavori sui provvedimenti manca la possibilità di essere relatore dei provvedimenti e quindi questo è quello che noi vogliamo scongiurare perché noi non andiamo a Bruxelles per occupare una poltrona e alzare una manina noi andiamo a Bruxelles come abbiamo fatto nei cinque anni precedenti per essere relatori sul maggior numero possibile di report cosa che peraltro in un gruppo piccolo è possibile fare perché a rotazione lei mi insegna voi ne potete prendere pochi noi invece ne possiamo prendere molti quindi ci sono pro e contro nell'essere nei grossi gruppi e nei piccoli gruppi noi abbiamo dimostrato in questi cinque anni credo con i fatti di aver fatto il nostro dovere di esserci meritati di essere andati a Bruxelles inviati dai nostri elettori il partito democratico forse ha dimenticato un po' di cose che sono successe in questi cinque anni oggi chiaramente siamo nell'epoca dei grandi proclami si accoda a Macron che è in caduta libera e che anche a casa sua penso che sia nel consenso più basso che mai del resto come anche il vostro lidere avrete sì però mi ha appena detto che voi sarete insieme a Macron e quindi noi vogliamo fare un grande schieramento che escluda la destra dove voi vi siete collocati e voi vi andate con i nazisti polacchi ma siamo seri ma dai un neonazista e il vostro vi siete messi così con i cibi ma lei parli della Polonia i nazisti sono quelli del PIS che siedono nel PPE per cortesia ammesso che si possa parlare di nazismo è evidente che in Polonia c'è una storia completamente diversa sono cose vergognose dai ma non è è assolutamente falso quello che lei sta dicendo lo sa perfettamente però fa parte della propaganda io invece vorrei sentire onorevole Begin e Gualtieri la vostra opinione su una proposta che Germania e Francia e qui torno a te Pablo dovrebbero fare mercoledì nell'ambito di uno dei periodici incontri che la Merkel e Macron faranno vale a dire niente fondi a chi non è in regola con le raccomandazioni della Commissione Europea è così Pablo? questo è un dibattito non è la prima volta che lo sentiamo ma sicuramente è la volta nel quale lo sentiamo con più forza sembra che Parigi e Berlino stavolta si siano veramente convinti di fare questo vincolo fra i soldi e le regole e penso che sia una bella cosa bisogna chiaramente far capire soprattutto su un messaggio a vicegrado nel senso che l'Europa sono due cose sono dei doveri e non soltanto dei diritti tu puoi prendere l'aiuto la solidarietà ma questo è un percorso di due sensi e non può essere che soltanto fai la mano per prendere l'aiuto la solidarietà i soldi di tutti gli altri ma quando bisogna dare un aiuto soprattutto rispettare le regole il stato di diritto le questioni molto più basiche basiche si diano la spalla e dicano no 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 questo non ha niente a che vedere noi siamo indipendenti abbiamo la nostra sovranità e noi non vogliamo ascoltare onorevole Beghini lei è d'accordo con questa proposta franco tedesca? ma guardi è sicuramente importante seguire le regole sarebbe importante che le seguissero tutti non quelle che piacciono e quelle che non piacciono la Germania per esempio viola le regole sul suo plus commerciale da diversi anni quindi magari richiameremo all'ordine anche la Germania finalmente detto questo io trovo che parlare di europeismo cosa di cui io sono profondamente convinta magari sarebbe bene poi che fosse anche vero e non soltanto nelle parole e nelle intenzioni programmatiche ma che nei fatti si manifestasse il vero europeismo e poi consolidare i rapporti tra due uniche tra due nazioni che si vogliono ergere a leader peraltro in un momento anche in questo caso di minimo storico nei loro consensi e di grandi difficoltà interne non possa che aumentare la disgregazione europea piuttosto che cementarla ancora di più e non possa che allontanare i cittadini da un'istituzione che se oggi è così mal vista è anche per responsabilità di chi l'ha portata a questa percezione perché per essere europeisti bisogna dare delle risposte europee e nella misura in cui in realtà si danno risposte politiche che non hanno in realtà come unico presupposto quello di fare il bene dei cittadini ma si crea sprequazione difficoltà maggior povertà e ci si concentra soltanto su quello che fa comodo perché magari è uno slogan e quindi quando si vogliono coprire le proprie magagne si parla quello nazista uno xenofobo senza voler banalizzare problemi che effettivamente esistono il risultato poi è quello che le persone scendano in piazza se noi non vogliamo che le persone scendano in piazza diamo delle risposte concrete non facciamo dei summit Italia Francia Germania come se fossero gli unici detentori della grande verità in Europa Gualtieri il problema che li fanno tra di loro perché l'Italia questa fase non conta nulla ma io invece penso questo io penso che la condizionalità legata allo stato di diritto l'abbiamo votata in Parlamento è giusta mentre è sbagliata e l'abbiamo respinta è stata una grande vittoria nostra italiana respingere la condizionalità che lega i fondi europei al rispetto del patto di stabilità del fiscal compact questa è stata una vittoria un voto e la delegazione italiana del partito democratico ha deciso la posizione dei socialisti che hanno creato un'alleanza grande so che anche in questo caso i colleghi del 5 Stelle hanno votato con noi e noi abbiamo vinto contro i conservatori e abbiamo eliminato dal regolamento sui fondi strutturali questa regola che farebbe pagare alle regioni le colpe dei governi le regole del patto di stabilità vanno rispettate ma con la flessibilità e la riforma che sostenga la crescita degli investimenti mentre un'altra cosa è il rispetto della democrazia dello Stato di diritto per cui è giusto assolutamente inserire delle condizioni da nuove ma qui è una questione di metodo noi dobbiamo rafforzare le istituzioni comunitarie queste cose non si devono decidere nei sommi bilaterali tra gli Stati membri noi dobbiamo rafforzare la filiera decisionale comunitaria il Parlamento il Consiglio nella sua interezza la Commissione Europea ma per far questo occorre che l'Italia sia in campo perché se l'Italia non c'è il fronte comunitario si indebolisce e si rafforza invece la piccola Europa intergovernativa dei paesi più forti quindi io sono molto preoccupato perché l'assenza politica il vuoto politico la sedia vuota che noi di fatto abbiamo determinato a Bruxelles con questo governo italiano non sta indebolendo solo l'Italia come nazione ma sta indebolendo anche il processo democratico di un rafforzamento del metodo comunitario per cui noi votiamo una cosa in Parlamento e poi c'è la decisione intergovernativa in una sede in cui siamo pure esclusi e poi spesso il governo italiano sì io sono stato pensi attaccato noi al Parlamento Europeo abbiamo votato sulla riforma del fondo salva stati sono stato attaccato da un deputato della Lega che ha detto ah il Parlamento la Commissione Econ che io presiedo ha votato il nostro testo rafforza il Parlamento e indebolisce la droga il governo italiano all'Eurogruppo si è dovuto accodare la proposta tedesca molto più dura quindi un paradosso quindi abbiamo un governo che poi non fa contare le sedi comunitarie e alla fine si deve accodare alle decisioni intergovernative peggiori quindi questa è la situazione in cui siamo e quindi bisogna rafforzare il Parlamento e il metodo comunitario grazie a Roberto Gualtieri Europarlamentare del PD Presidente della Commissione Affari Economici e Monetari grazie a Tiziana Beghini Europarlamentare Movimento 5 Stelle grazie a Enrico Singer in questo momento dobbiamo chiudere la trasmissione sarà il nostro ospite di nuovo grazie a Pablo Rodriguez Suanzes da Bruxelles il corrispondente del mondo io vi ho appuntamento con il TG delle 13 e 30 quello delle 20 condotto da Francesca Fanuele tutti gli aggiornamenti li trovate ovviamente sul sito del TGLasset www.tglasset.it noi ci vediamo domattina perché parleremo di economia in maniera un po' particolare ci chiederemo se è possibile se ci sarà una manovra recessiva se ci sarà una patrimoniale soprattutto come gestire i nostri risparmi e magari non farsi fregare da chi ti vuole vendere diamanti gonfiati e domattina per chi vuole buon sabato arrivederci a presto a presto a presto a presto